I sindagi sono consapevoli che hanno bisogno di risorse ma soprattutto di un apparato normativo e di soluzioni ai tanti problemi pratici. La nuova legge sullo status di città delle spiagge sta iniziando il percorso parlamentare. Fortemente voluta dai comuni costieri del Veneto e sostenuta da una trasversalità politica che potrebbe portare alla sua approvazione entro l'anno, è, come ribadito a Milano dalla sindaca di Cavallino Treporti e coordinatrice nazionale del G20 Spiagge Roberta Nesto, una norma che offre strumenti idonei a gestire una serie di situazioni di fatto. Sono sicuramente quelli della gap tra estate e inverno, la differenza appunto tra la popolazione residente e quando si aggiungono gli ospiti temporanei, compreso anche il fatto di avere una differenza di necessità in merito ai servizi. Sono dei criteri oggettivi che sono parametrati e che ci sono nelle banche dati dei comuni, quindi individuare lo status attraverso questi criteri è davvero un'operazione quasi solo matematica. I comuni del G20 Spiagge, di cui fanno parte sei località venete, vantano tutti oltre un milione di turisti l'anno. In totale ne contano 70, il 17% del dato complessivo italiano, in un ambito in cui la costa veneziana gioca un ruolo fondamentale con oltre 20 milioni di presenze. Alle porte di un'estate da record questo sistema deve essere rafforzato. Abbiamo bisogno di dare strumenti ai sindaci perché siano in grado di dare risposte ai residenti, prima di tutto perché una comunità accogliente che sta bene è il primo biglietto da visita. Dobbiamo assolutamente quindi avere questi strumenti e continuare a dare risposte alle nostre città. Grazie. Grazie. Grazie.